Ciao a tutti, io sono Lomuscia Morenicole, una studentessa nonché rappresentante d'Istituto dell'Iceo Dolorenzo Milene d'Acqua Viva delle Fonti, il mio al corso musicale, e oggi sono occupa per parlarvi di un progetto a cui ho preso parte quest'anno scolastico che si chiama B4, ed è un servizio di orientamento online pensato per le classi quinte delle scuole superiori, costituito da un gruppo di esperti con cui intraprendere un colloquio che sia di natura personale o di gruppo. Ora, parlando un attimo delle facoltà di studio universitarie, ammettiamolo, oggigiorno sono in continuo sviluppo e questo potrebbe recare e reca di solentamento in moltissimi giovani. Proprio per questo ho deciso di prendere parte a questo progetto e posso dirvi che il riscontro è stato molto positivo perché sono riuscita ad affinare le mie attitudini lavorative, a creare un ipotetico profilo professionale in cui io mi immagino una volta terminata la scuola superiore, e ho messo a punto quelle che sono le opzioni tra cui è possibile scegliere. Ci ho detto, è proprio per questo che io ringrazio tantissimo, vivamente e apertamente, l'organizzazione di B4, e spero che si possano estendere progetti del genere per coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, perché oggi più che mai il mondo in cui viviamo è un mondo molto delicato ed è molto complicato e trovo che sia più che necessario sostenere attività di orientamento. Questo vuole essere un invito a B4 affinché possa incentivare nuove edizioni perché sono molto sicura, sono super sicura che sarebbero molto preziose per la maggior parte dei giovani. Un saluto a tutti!